Vince la Jesina con merito, sfruttando le occasioni create e trascinata da un super negro che con la categoria ha davvero poco a che vedere. Il Venafro gioca un buon match ma è penalizzato dagli episodi. Chissà come sarebbe finita se Chetà al terzo minuto avesse segnato il rigore concesso per atterramento di Campana ai danni di Riccitiello. E invece Bubu, di solito infallibile dal dischetto, spedisce la palla sulla traversa. E così scampato il pericolo, la Jesina si vede prima con Sebastianelli, poi con Negro, russo in due tempi. Mentre Chetà prova a riscattare l'erroraccio dagli 11 metri con questa conclusione che termina a lato. Ci prova pure ricamato dalla distanza. Per gli ospiti risponde il solito Negro da calcio di punizione. Siamo alla mezz'ora ed il gol è maturo e arriva puntuale sull'asse Negro. Sebastianelli per il numero 9 è un gioco da ragazzi spedire alle spalle dell'incolpevole russo. La reazione dei molisani è vehemente. È qui ricamato all'occasione per rimettere le cose al loro posto ma trova sulla sua strada un super niosi. Poi Riccitiello spedisce fuori. Ancora Negro chiude la prima frazione con un destro che spaventa russo. E con le immagini siamo alla ripresa. Il Venafro spinge sull'acceleratore alla ricerca del pareggio. Qui è Riccitiello a mettere in crisi niosi. Il fantasista ci riprova poco dopo ma il portiere è ancora una volta attento. La sfuriata bianconera viene conclusa con poca fortuna da capezzuto. E nel momento di maggiore pressione dei locali gli ospiti archiviano la pratica. La corta respinta della difesa bianconera permette a Negro di dare sfoggio alla sua classe. Il destro del numero 10 di Fenucci è terrificante e manda in visibilio la tifoseria marchigiana. Sotto di due gol il Venafro prova a rientrare in partita con Riccitiello. Dall'altra parte Negro colpisce ancora ma è colto in offside. Negli ultimi minuti i bianconeri si portano in zona gol con Keita che non vede la porta. Poi con il centrocampista Velardi imbeccato da Riccitiello. Ancora con il Maliano stranamente impreciso. Così come è impreciso Bediaco su corta respinta di Russo ma sarebbe stato davvero troppo per un Venafro bello ma sfortunato. Per la Jesina invece è tempo di festeggiare.